Fortunato, aspetta! Aspetta! Ma lei si rende conto? Ma come si permette? Ma come si permette di entrare così all'improvviso senza appuntamento? Senza bussare mentre sono con un paziente? Ma ha perso la testa o cosa? Ma si rende conto? Ma si vuole chiamare? Se fa così lei si dimostra stupida! Lei è stupida! Ma lei si rende conto di che lavoro faccio io? Del mio ruolo! Ma lei non può interferire! Lei non può mettere le mani nella sabbiera della Santerapi e cambiare la rappresentazione che sua figlia ha fatto della sua realtà interiore! Tuo marito non può entrare così all'improvviso e parlare di pompini! E tu non puoi trafugare alle minie pure! L'ho trafugato io? Tu non sai, tu non sai la merda che mi ingoi ogni giorno con il sorriso in bocca! Io la sera mi sento un fegato così! Io non ti posso più vedere, lo capisci? Io non posso più vedere tua figlia! Io non posso perché? Perché c'è un codice! Io non posso, non posso, non posso!